Buongiorno, benvenuti, 85esimo podcast per noi. Cominciamo subito con un grandissimo filosofo ed economista italiano di fine 700-inizio 800. Stiamo parlando di quello che Vincenzo Gioberti, nel primato morale civile degli italiani del 1844, definì Fervore di gioventù in età matura, temperato da canuto senno e un ingegno finissimo, fanno di Luigi Chitti uno di quegli uomini che sono atti ugualmente al pensiero ed all'azione. E dopo questa grandissima presentazione di Gioberti passiamo alla storia di Luigi Chitti, economista, filosofo, nato a Cittanova, il Reggio Calabria. Vissuto quasi sempre all'estero, sostenitore del passaggio alla moneta cartacea, dei crisi finanziari e della reforme di un sistema monetario del 1839. E' l'opera che sancisce questo passaggio. Notizie biografiche, figlio di Giuseppe Chitti, avvocato giudice della Gran Corte Criminale di Reggio e di Saveria Barbaro, nativa di Napoli, partecipò a Napoli col padre e fratelli alla rivoluzione del 1799, anche detta rivoluzione della Repubblica Partenopea, proclamata a Napoli allo stesso anno ed esistita per alcuni mesi sull'onda della prima campagna d'Italia delle truppe napoleoniche. In seguita alla capitolazione del forte Castelnuovo, o Maschio Angioino, o Masti Angioino, quello storico castello medievale rinascimentale, che è uno dei simboli della città di Napoli, riparò in Francia, a Parigi, terminò gli studi giuridici e strinse amicizia con molti patrioti del tempo. Tornata a Napoli esercitò in città la professione di avvocato e nel 1808 difese Casalnuovo, l'odierna cittanova, contro la feudataria del luogo Maria Grimaldi Serra, ultima principessa di Gerace, Gerace comune a Reggio, davanti alla Reggio della Commissione Feudale. Fattosi un nome come avvocato, dopo la restaurazione, ebbe la nomina di segretario generale al ministro di Grazie e Giustizia del Regno. Napoli sposò Maria Amalia Ipman, figlia di Emanuele Ipman, un capodipartimento di uno dei ministeri del Regno e di Giulia Rossi, e la coppia abbia due figli, Roberto e Maria Malvina, morti purtroppo entrambi giovanissimi. Nel 1820 Luigi Chitti fu coinvolto nella rivolta contro Ferdinando I, cioè Ferdinando IV di Napoli, organizzata dai sottotenenti Michele Morelli e Giuseppe Silvati, e fu quindi privato della carica ed esiliato. Passò un periodo a Londra, nel 1826 tentò di tornare a Napoli, ma ebbe l'inibizione ufficiale a rientrare nella capitale. Andò quindi a Firenze, chiamato da Amici, poi si recò a Bruxelles, e in Belgio diede lezioni di diritto pubblico di economia sociale, ottenne la carica di segretario della banca fondiaria e si fece un nome. Nel 1833 il governo belga gli conferì la licenza di professore economia sociale, e tenne quattro letture pubbliche nel museo di Bruxelles. Le sue quattro letture furono intitolate da lui stesso Corso di Economia Sociale, cioè compendio delle sue vaste vedute e della sua non comune cultura sull'argomento. Nel corso dello stesso anno pubblicò altre opere, in seguita alla fama acquisita, il governo belga, nell'ottobre 1834, gli conferì la carica di professore ordinario alla Facoltà di Diritto dell'Università di Bruxelles. In Belgio, Chitti pubblicò la maggior parte dei suoi lavori e sinza amicizia con Vincenzo Gioberti, che vi rimandiamo al podcast dedicato, che lo definirà valente economico, e naturalmente poi ne parlerà nel primato morale civile degli italiani. Nonostante la revoca dell'esilio, l'economista non tornò a Napoli, ma rimase in Belgio ancora per parecchi anni, fino a quando partì per gli Stati Uniti nel 1844. Quindi mentre Gioberti licenziava il primato morale civile degli italiani, Chitti partiva per l'America. E l'America ovviamente è il sogno americano, possibilità di arricchirsi, e in America infatti Luigi, chiamato Luis Chitti, tentò varie imprese commerciali, ma difficoltà sopravenute li fecero abbandonare presto i suoi progetti, e nel 1847 si stabilì a New York, dove morì per un colpo apopletto, cioè un ittus, la notte di venerdì 2 settembre 1853. Naturalmente le opere a cui vi rimandiamo per le opere di questo economista e filosofo sono il corso di economia politica nel 1833 stampato a Bruxelles, il corso di economia sociale l'anno successivo ha sempre a Bruxelles, e poi nel 1839, questo è già citato, della crisi finanziaria, della riforma del sistema monetario, sempre a Bruxelles nel 1839. Grazie per l'attenzione, vi ricordiamo di iscrivervi al canale Simone Bulleri YouTube, lasciate like, dislike, commenti e suggerimenti.